L'esistenza parola è una cosa fantastica, così fantastica che ho scelto all'età di 15 anni, potuto fare tutto quest'estate, di andare a fare volontariato. Fare volontariato... Ho scelto di fare volontariato perché avete dato speranza. I morti sono stati 43, ma in senso di voi potrebbero essere vivi. Avete salvato vite. Questo è l'importanza. Siamo arrivati al padiglione qui e loro ci hanno dato un'assistenza come se fossero una famiglia. Siamo diventati in tutt'uno una famiglia. Io personalmente, prima di due padre, è stato male purtroppo dopo tutto quello che era successo, per la pressione, era una situazione troppo difficile da sopportare per le persone. E io stavo crollando, stavo malissimi. E loro, loro due, non mi ricordo, cioè mi ricordo sempre di loro due, soprattutto, ma tutti quanti, mi hanno dato aiuto. Ed era una cosa importantissima. E ripeto, anche per questo inizio a fare volontariato perché è una cosa importante a aiutare. Bravo!